Questa è benzina, io vi do fuo 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 fuogo Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono BB23 e oggi continueremo la campagna di Call of Duty World War 2 Siamo con la terza missione, la roccaforte, vai 26 luglio, siamo asserragliati in una fattoria vicino a Marigny Chiudo gli occhi per pensare a Aeser, ma rifaccio quel sogno Quale sogno? Che succede? Solito sogno Più o meno Sì, continuo a tormentarmi Sto bene ora, riposa un po' No, Wilson deve capire che sono pronto Non mi interessa cosa dice, non hai niente da dimostrare Già, ma sono stanco di lui A casa mia, quando c'è un problema, lo si prende di petto È il solo modo di farsi rispettare Ti capisco, devi credermi Un uomo deve affrontare le sue battaglie Ma il rispetto non serve a nulla se ti fai ammazzare Per fortuna c'eri tu a coprirmi E poi C'è il vecchio San Michele che veglia su di noi Quindi non c'è niente di cui preoccuparsi Non sapevo che credeste in quella roba Non rifiuto nessun tipo di aiuto Vuoi parlarmi del sogno? O no? I lupi ci uccidevano al bestiame Io e mio fratello Paul gli davamo la caccia Quando ci hanno accerchiato Ci sto provando Tutto a posto? Mi dispiace Paul Ascoltami ragazzo È naturale avere paura Dobbiamo tornare a casa, fratellino Da quel giorno Mi ripromesi di non deludere mai più Paul Ora non si tratta solo di convincere lui Ma anche Pearson Allo riparo! Turner guiderà il grosso delle truppe nella piazza Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa Domande? Bene! Io ne ho una Risparmiatela e avrai una stella d'oro Andiamo! Sono il suo preferito Pai, si vede con piena Inserbe copertura a sinistra Tutti gli altri a destra Allora intanto vediamo che fa i dei Un attacco di mortaio Avanziamo! Di copro! Ehm, boh Lanciamo là Vabbè, un'altra arma risposta L'altra età Ok L'ON1928 Fuoco di copertura da sinistra Tanto a scusa Ehm, è un attimo Ehm, è un attimo Buongiorno Abbiamo iniziato male Abbiamo iniziato male Abbiamo iniziato Abbiamo iniziato Abbiamo visto Sarebbe quasi di morire il server fa una cadenza assurda poi non uccide i gioietti sparano spusi no 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 mi sei bloccato gli abbiamo intervinto e non mi sa fuci senti perdiamo l'MT40 ma dobbiamo darvelo provo con una granata c'è uno con la granata una granata dopo il bordo come al solito il movimento muoversi muoversi esce allo sconfetto che c'è andiamo a questo vado non so cosa ho il joystick le parti gira oh vabbè il kit medico aspettiamo un attimo devo trovare un devo cambiare l'arma assolutamente ho un colpo e poi ho le pistole ok abbiamo trovato dei colpi ok 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 sentito 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 non riesco a muoverli da fuori ci sono dei feriti portali in salvo da questa parte subito non posso combinare hanno bloccato l'intera strada i fumogeni sono l'unica soluzione fumogeni? ci penso io ma quello è Aiel guarda un frag fred ho giusto quello su no 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 capito Oh, vai. Perfetto. Eh, sta cosa qui del surriscaldamento è un po' una rottura. Sembrano qualcosa. Ok, raggiungiamo Wilson. La strada è libera! Ok, Daniels, tu pensa alla porta. Ci sono! Qui, qui! Subito. Dove sono andati? Saranno fuggiti sentendoci arrivare. Ci sono delle scorte. Riforniamoci prima di salire sul campanino. Assolutamente. Dammi tutti qui. Merda! Italia, c'è al secondo piano! Su! Fate giù! Su! Sargenti, arrivano altri strucchi dal retro! Fateli fuori! Allora, dov'è Wilson? Ho bisogno di Wilson. Poi, indicami. Ok. Vediamo un attimo il mio cecchino. Ah, pensiero una frenata. Eh, non esplode. Grazie per l'aiuto. Ah, ma c'è un trucco qua. Questa missione si presenta di fuggio. Oh, oh, oh. Ehi, chi marca? Ehi, chi marca è una fossa? È stata un po' di... Non so se siamo dentro una chiesa, come lancio fiamme. State passi e circondiamolo! Non muore? Oh, è andato. Sì, i mortai, mentre siamo dentro una chiesa, signora Yen, non solo mi puro. Oh, chi è sto pazzo? Cecchino, magari col merino sarebbe stato più comodo. Molto più comodo. Oh, sì, non riesco a prendermi. Qui li abbiamo. Oh, no, no. Vado alla porta. I cruchi abbattono i nostri caccia. Chiusa, ragliello, andate a distruggere quale armi. Sì, sergente. Daniel Stiles, noi daremo supporto in cima al campanile. Per fortuna ci sarai tu là sopra. Nessuna pressione. Tranquillo, ti copro io. Ti conviene. Ok. Tutti su per le scale, andiamo. Sei sul campanile? Eh, sì. Io ho un tina, sei. Alla scala. Spero che nessuno soffra di vertigini. Cambierebbe qualcosa? No. Oh, oh. Questo è un formato pesato. Dove ci sono? Dove ci sono? Dove sta? Ah, bersagli. Crucchi all'auto in fiamme. Non male. Ancora due. Marta. Farai, crucchi che bloccano la strada a Ziusman. Nemico, secondo piano. E' quello. Eh, it's marker. Eh, it's ma... Daniels, becca quei cecchini. Ancora uno. Signale, signore. Hanno bloccato Ziusman. Tedeschi, fianco sinistro. C'è un'altra contraerea nel cortile. Non è presidiata. Tieni la d'occhio. Sono arrivati alla contraerea. Bel colpo. Va fuori gli altri. Fuoco. Respira. Non colpire, no. Benissimo! Vai. Devi! Se l'ho fatto! Ok, ho spregato l'abilità così, proprio... Apri il barco! Semi cingolati nella piazza! Sono in trappola, fuoco sulle torrete! Eh, non, il titmarco. Hanno bloccato Ziusman! Il titolo più forte del titolo che fa Hitmanter, però, nella campagna. È a terra! Torno con l'ultimo! Ci sei andato vicino! Tu stanno? Ti avvicinano ai cannoni antiaerei! Crucchi sui tetti! Togliamo di mezzo quelli qui... Scusami, tu che fai? Vabbè. Allora, eh, non capisco dove stanno, quindi, boh... Occhi su Ziusman! Vai. Non si rialzerà più! Vai, chiediamo. Egli a scrucchi in fondo alla strada! Perfetto, adesso sì che... Si ragiona guardando tutti. Li attaccano alle spalle! Sei vicincolato dietro di loro! È ferito! Ti stanno circondando! Che cazzo è stato? Deve essere Turner! Addosso! Copriamoli mentre supportano Ziusman! Ormai a poterci mezzo... Ziusman ha distrutto il secondo! Wuhuu! Un ultimo cannone! Non ne abbiamo uno spazio aereo! Signore, la contrae è stata puntata! Ponte via, presto! Oh, merda! Ehi, è lui! Stai niente! Ti prendo! Stai lasciando! No! No! Attenti! Levatevi da lì! Eh, c'è qualcuno che è andato giù? È via da lì! Faici! 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 Mi sa che è morto quello che sta con noi, gli Stiles! Siamo cascati da 8 metri, siamo vivi! Eh, qui non so! Oddio di quanto! Eh, sì, muovete il culo! C'abbiamo una campana che ci sarà in testa, cioè che ci sarà in testa, muovete il culo! Oh, merda! Dai, salta! Non è vivo, Stiles! Ancafato! No! La passione! Pearson! Pearson è... Il salvatore! Da salvare! Ah, no, Stiles è vivo! Ah, no, chi era quello che ha scato giù da sotto? Ho forse delle ali, soldati! No, sergente! Infatti non sono il tuo cazzo di angelo custode! Fanculo! Ho perso due ottimi soldati! Ora diamoci una mossa e distruggiamo quei cannoni! Forza! Vai! Non fai la piaccia! Merda! Erano insieme prima che crollasse tutto! Per ora ci conviene restare in posizione! Oh, sì! I crucchi non devono salire qui! Ho ancora delle granate se ti servono! Pronti! Mantenere la posizione! Forza, diamogli copertura! Attacco il nemico! Fuoco di soppressione! Fuoco a volontà! Quel cannone spara ancora! Dammi tutto! Vengono su dalle scale! Dammi tutto! Ricopro! I crucchi assalteranno la nostra posizione! Tieni di a bada con il lanciafiamme! Ricevuti! Chi ce l'ha il lanciafiamme? Scusami, eh! Chi ce l'ha il lanciafiamme? Sargenti, li sognavi! Ah, eccolo, lanciafiamme! Eh, eh, eh! Alle scale! Difendere il schiacco sinistro! Dai, andiamo! Batteria allo scoperto! Pense in movimento! Damien, scopri il fiatto destro! A sinistra! Sì, Sargento! Batteria allo scoperto! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Vogliamo indicare la zona per segno ai P-47! Daniels, usa un fumo giro rosso! Non me lo faccio dire due volte! Bersaglio a ore 11! Fumageno! Dai, pare che balanciate bene! Respingeteli fino all'arrivo dei P-47! Mantenere la posizione! Io non c'ho preso in da l'arrivo! Ecco i P-47! Scopri! Un fumo in arrivo! Siamo spostati via! Ahia! Vabbè, noi siamo forti. Ci riazziamo dopo tutto. Ziusman! Ziusman è vivo? Sono vivo! Tarnel, buongiorno! E' stata un'azione ben eseguita. Non se la sono cavata tanto male, vero, sergente? Forse ti sbagliare sul loro conto. Finalmente tirate fuori le palle! Ma adesso si fa sul serio. Scopriremo di che pasta siete fatti. Anche se gli servissimo la testa di Hitler, si alimenterebbe. Combattiamo come oggi e la guerra sarà finita in un attimo. Sicuro. Ma per farlo dovremo superare noi stessi. Beh, ci sono. Sicuro. Abbiamo conquistato Marigny. Le truppe tedesche se la stanno dando a gambe. Ma adesso siamo nel mirino di Pearson più di prima. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Abbiamo fatto un buon video con questa... Però ce la siamo cavata. Prossima missione NCOE. E niente. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un mi piace. Iscrivetevi. E niente, ci vediamo al prossimo video.